Buonasera a tutti, oggi non vi lascio un video con il discorso sulle arti marziali, oggi vorrei lasciare un piccolo video tecnico, le riprese di questo video le ho fatte ieri durante il mio allenamento al parco della snia, quindi nella prima parte del video vi mostro alcune tecniche di condizionamento per quel che riguarda il palmo delle mani, alcune tecniche da eseguire con un po' di cautela e attenzione per appunto irrobustire le mani, che corrispondono appunto alle tecniche per il palmo orizzontale sia alto che basso e il colpo di taglio con il bordo esterno del palmo. Poi nella seconda parte del video c'è un breve momento in cui vi faccio vedere alcune tecniche riguardanti il condizionamento del pugno verticale, sempre da seguire con massima cautela e attenzione. Vi ricordo che il pugno verticale va ad impattare sul bersaglio con la zona riguardante le ultime tre nocche delle dita. Infine nel video vi mostro una piccola parte di una forma molto famosa, la forma della tigria e della gru, dell'Oungar. Questa forma la sto allenando, visto che era parecchio tempo che non la studiavo, quindi in questo periodo del covid mi sono messo di sana pianta a ripassare tutte le varie forme e mi sono rinnamorato di questa forma, della forma della tigra e della gru. Quindi vi lascio con un piccolo spezzettone di questa forma. Vi ricordo come al solito che noi ci vediamo tutti lunedì, mercoledì e venerdì al parco della snia, sempre dalle 19.30 alle 20.30 per la solita lezione di Kung Fu. Un saluto a tutti, al prossimo video. 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 Un saluto a tutti. Un saluto a tutti. Un saluto a tutti. Grazie.